Qua mi sa che c'è un mini gioco arcade costo 500 proviamo io provo un po il gioco qua che è tipo stile allora dov'è che devo colpire ok andiamo qui eccolo dai 5 6 però i cattivi mi sa che ecco vedi tipo ci sono anche gli alleati che non vanno colpire no what dai ma gli zombie ci attaccano eh c'ho lo zombie dietro sto cercando di darti una mano ok ma io non mi posso muovere che inizia a diventare difficile come fai a colpirli si vabbè devi stare lì mirato fatto 11 ma non ho capito io sparavo non ho capito se ti aiutavo o no tu per attivarlo qua hai fatto spin cioè gira la ruota ah mi sa che ti da no qua c'è scritto ah no guarda che c'è un altro qua proviamo a girare la ruota questa è la cassa di V ah lol te non ci hai giocato perché questa è la cassa di V c'è l'equivalente alla cassa di V oh ma dato una gabblegum qui proprio no che non avevo neanche nel pacchetto tra l'altro ah ok quindi prendete ah non me la far rifare mi dice non è possibile si forse bisogna passare il round pura pianificata con questa cosa di aver aggiunto allora rimangono ancora questi detriti allora vediamo intanto portale bravo però non abbastanza energia non abbastanza allora si mancano altri qui di là poi comunque dopo voglio fare un giro qua sopra sto non abbiamo abbastanza punti spazzaneve eh no 1250 no a dire di ammazzare ah aspetta ammazziamo vicino alla vicino all'arena vicino all'arena là dentro eh qua è un po' tost cioè un po' vabbè non problematica però ma ci sono i gelati what non si possono prendere dimmi di no cioè dimmi di no non si possono prendere troppo sarebbe stato se no ma c'è il con il jukebox ma l'anima del monco era comunque oh si può attivare il jukebox what si si aveva visto 1500 ma dove hanno messo c'è l'MSMC ah è di black ops 2 quanti ricordi con quell'arma già mi ricordo che fu la prima arma in cui prendesti lo sciame o la mia impressione si 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 più di uno sciame due sciame infatti si 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 mi ricordo con la mia medica kawaii ragazzi che è che se non ricordo mamma mia quella è il DSR è l'uniche armi che ho fatto oro e io che comunque sono una sega nel multiplayer è già tanto punto si si no ma ti capisco oh bonus fatina eh vai prendilo te prendilo te ah già l'hai preso ok eh il coso dov'era aspetta ah ce n'era uno qua 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 dove sono io qua arrivo spara il cappello aspetta che sto caricando proprio ora ok uno fatto l'altro stava in fondo a sinistra ce la faccio ce la faccio vai vai hai fatto anche l'altro bella forse qui c'era un altro non mi ricordo boh vabbè eh perchè non c'è più io non vedo più il contatore zombie forse si attiva quando ne mancano poche no è scomparso anche a me ah ok si attiva infatti stiamo ammazzando troppi si eh lo so infatti dobbiamo ucciderli qua dentro altro ah cazzo c'è altro bonus fatina ah ti spiego c'è entrambi eccolo là eccolo l'altro si ho fatto anche l'altro pupazzo comunque mi sa che le fatine uccidono gli zombie credo quello non lo so vabbè tu comunque intanto oh qua c'è un altro pupazzo quanti che l'altro l'altro cappello c'è altro pupazzo col cappello stava in fondo a tutto dove c'era min il mio kick la cassa ok ho capito che c'è lei in fondo dove c'è un altro dove c'è quel vincolo con la canola presunto tavolo da lavoro voi non l'ho visto il tavolo da lavoro si quello che dicevo tavolo da lavoro ma in realtà non è ok si insomma dove c'è il mio kick ti stai ammazzando una alla volta tu la eh si però è difficile no senza così stiamo in due la a perdere tempo no 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 infatti magnalo magnalo eh ho finito i colpi dell'arma però coltello ok ha droppato un pezzo electric cherry allora ha preso ok c'è abbiamo una pinza guarda a sinistra su tab ah ok su tab se apri tab compaiono delle cose comunque guarda in basso lol mica l'avevo contato martello ehm pinza ci manca un cacciavite cacciavite ok ma non è che si mi sa che è per riparare la zelitta di babbo natale se rova vabbè sicuramente ce lo darà l'altra l'ultima renna si si ah eccola qua l'ultima renna perfetto cioè perché il martello l'abbiamo avuto con la prima renna si si qua c'è electric cherry se lo vuoi far vedere dove è aperto ok ok allora ci mancano su tab in basso c'è anche il pacca punch che è il pacca punch praticamente di v e e ci manca quello lì e poi i due cose dovrebbero essere due fusibili quindi ci mancano due fusibili da trovare comunque vabbè piano piano cerchiamo di trovare tutto però cosa più importante ora ci dobbiamo focalizzare per per togliere i detriti per far passare le renne le renne che sono dovrebbero essere quattro innanzitutto il portale si è che si è caricato abbastanza e ora guarda ce l'hai te l'ultimo zombie si non l'uccidere che sto uccidendo si 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 fa 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 entra il portale ok arrivo oh ma che cazzo andiamo e vai vai fai vedere quello che c'è da fare si si sto arrivando perché è tutto bianco ok ah ok c'è il pacca punch per mettere i fusibili ok mancano si dobbiamo trovare i fusibili in pratica ma a me dice premi e tieni premuto per piazzare i missi i fusibili che non abbiamo però ok no non me li fa piazzare eh non ce l'abbiamo infatti eh si si ma vedi che su tab è lo stesso che abbiamo è l'ultimo vedi è lo stesso si 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 eh ok comunque qua due dopo un po' infatti cazzo lì c'è un altro pupazzo di neve si va via dov'è vediamo eh nella fattoria ah ok l'ho visto si si ci sono dietro i te ok allora abbiamo un po' le idee più chiare bisogna affamare ma io vado a fare gablogam intanto qua l'arena dov'è l'arena eh qua vicino alla giostra si qua davanti al gioco ah ok è abbastanza comodo come posso rudolf oh questa me la fa ascoltare prova un po' ok si è attivata vediamo cosa fa ora si guarda intorno dai l'arena c'ha anche il naso rosso what io vorrei fare gablogam ma mi sa che non con gli zombie si è attivata però non un po' confusa non si muove non si muove questa dasher tieni un attimo gli zombie che faccio gablogam si che c'è perché stai in un posto un po' inculato ah ce n'hai uno se c'è mazzo che c'è un'arena ce n'hai uno ok vai vediamo se droppa il pezzo ah fontana speciale è buono eh niente male avresti punti per fare qualsiasi acquisto no ne vuole ancora fa uccidiamo si si 3000 qua abbiamo aperto tutte le zone o mancava una non mi ricordo no credo che abbiamo aperto si abbiamo proteggi escorta l'arena aveva scritto dir che era dir ok sta camminando c'è un lupo what uccidi lupo vai ok bisogna proteggere l'arena dai lupi ok chi è che lupi giganti sono cavalli altro che lupi io ho solo un uber però non siete nulla in confronto a Sif morite due il vero a parte che c'è il suono di una mucca però va bene si va bene effettivamente deve essere fatto un po' meglio ma va bene allora non so che verso fa la renna di preciso però non l'ho mai incontrato no vabbè è figata sto fatto ok sta andando tipo dentro la stalla ah vedi ci sono i nomi ok delle quattro renne ok una l'abbiamo presa grande rudolf ok manca prenser dancer e dasher ho sbagliato sicuramente la pronuncia mi pare dasher sono tanto di detersivo tipo ah no c'è prenser ah ok possiamo escoltarla si si bisognava praticamente aprire mi sa un po' di puttana eh ma non si attiva subito non si attiva subito è normale ascoltare intanto mi sto a fare vado a farmi una cassa ci sono i zombie che partono io intanto vado ad ammazzare qua sotto l'altra renna bravo esatto esatto ma a me si è bugato il contatore mi dice zombie rimanenti 4 idem ok credo che mi ha bisogno di una mucca ok questo che è ho notato solo ora che l'instant ha il cappellino dal babbo natale vabbè prendiamo tanto vado a cambiare io sto ammazzando piano piano è sotto si si tranqui sto facendo cassa io problemi? e qui partono i meme belli non penso possono fare i meme con l'audio vieni 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 guarda guarda ma vai a cagare c'ho due wounder il problema è un po' grave però vai a cagare se caghi escono altre wounder ok va bene comunque mi servirebbe il mio kick a sto punto si decisamente beccati sto cacciavite ah aspetta andiamola a prendere no l'ho preso l'ho preso ah ok allora vado a mettere esce proprio sotto la renna non c'è niente da si 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 appare nell'hud allora dove è qua eh non me la fa montare però ops ah beh forse bisogna prendere le renne però prima beh si dobbiamo montare prima le renne che detto così sono amarissimo aspetta vediamo un po' in fondo tanto si è cambiato qualcosa no ma l'altra renna pre prensa della come cacchio si chiamava lei eh infatti vediamo che fine ha fatto mi sa ah una è in prima stanza eh mi sa che prensa ma prima io avevo interagito ah è ancora qua eh non si muove boh forse bisogna cambiare il round andiamo a vedere eh quella è in prima stanza che c'era la prima che abbiamo visto ah poi ce n'è anche una là una lì al cinema e dopo andiamo a vedere prima quella è in prima stanza che è quella più più isolata posso vedere quella al cinema allora è da sola no qua non mi compagno eh no non mi fa interagire idem o bisogna passare il round oppure non lo so probabile oh c'è un fusibile ok uno di due trovato dove stava? eh prima stanza cioè subito fuori la prima stanza allora abbiamo un altro fusibile e una macchina dei negativi cioè dei negativi dei rulli oh ci sono i lupi ok arrivo arrivo tu sei ah li vedo stanno sponando qua maledetti lupi perché stanno andando stanno andando verso la prima stanza almeno uno what? ma noi che attaccano tutte le sei sempre al dinner? eh sì però sono arrivato li ho ammazzati ma non è cambiato forse perché non c'ero io anche e non esporvo più ma io non ho visto uno che andava verso la prima stanza forse attaccava l'area no io ho visto un paio che andavano appunto verso questa oh si sta muovendo si sta muovendo si si lo leggo in alto a destra ah l'ho lo giusto non l'avevo visto unimamente sai con la neve neve si no ma infatti è un po' lupo we wish you a merry christmas and a happy